Un capitolo altrettanto importante all'interno del nostro patto è quello dell'investimento del gruppo sulla genitorialità. Andiamo a inserire tante misure che supportano i genitori nel primo anno di vita dei propri figli, quindi andiamo a riconoscere sette giorni aggiuntivi rispetto a quelle già riconosciute dai contratti nazionali per assistere i propri figli nel primo anno di vita. Dopodiché andiamo a raggiungere ulteriori due giornate per quello che riguarda i primi tre anni di vita, quindi assistendo anche i figli nell'inserimento all'asilo nido e aggiungiamo anche una giornata con un potere simbolico significativo, quella dedicata all'accompagnare i figli al primo giorno di scuola elementare. Per noi assistere ai figli è un impegno concreto che si vede anche nel welfare. All'interno del nostro welfare ci sono tante iniziative di supporto economico e non solo nei confronti dei genitori che sono persone del nostro gruppo e complessivamente riusciamo anche a erogare circa 4.000 euro all'anno per figlio nei percorsi di vita e di crescita.